E ciao a tutti amici gamer bentornati in questo nuovo video Vi voglio solamente dire che è cambiata la programmazione dei video Ci saranno ben due video, due video a settimana, sabato e martedì Sempre alle ore 14, quindi martedì ore 14 e sabato ore 14 Forse anche un terzo video alla settimana ma è bonus quindi va a caso A volte potrebbe uscire, a volte no Sono affiliato a Instant Gaming tramite il link che trovate qui sotto in descrizione Potete comprare giochi a prezzi scontati pesantemente Al tipo GTA lo pagate 10 euro per PC 200.000 dollari per GTA online lo pagate 1 euro E tramite quel link mi potete anche aiutare a comprare nuovi giochi e darmi un po' di supporto Insomma perché a me di 10 euro mi arriva al 3% So che poco ma qualcosa è sempre Detto ciò vi invito a iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto Cliccare sul link di Instant Gaming, attivare la campanellina E non perdervi nessun video Detto ciò noi ci vediamo prossimamente